Come vuoi farci? Lo sai E beh, perchè stiamo a casa? Non mi ho potuto farci a casa A casa c'è una mamma e papà E quindi? E quindi prima c'era nato dolore da parlare con te Ti ero guardando all'occhio Frangeli di questo cane lo stai portando troppa annanza Qualcuno mi ha detto cacchielli c'era tesoro nostro E senza domanda niente in cambio Prima cosa che le teno è una mamma E seconda cosa I soldi ce l'ho giù solo prestata Questo tempo mi fa arrivare un carico e mette cosa a posto Hai capito? Ho indagato a tu e a mia moglie me la presto i soldi che ti interessa Ancora non hai moglie Ti preoccupa Ma tu mi sei la diretta Ma se stai senti a papà c'è sta pensato Aspetta Aspetta c'è sta la terza questione La più importante Annina Non la girate i soldi nostri Annina la girate i soldi miei Annina Non sai che pensi a certi voti Michele? No Si intimo che è stata sfruttata Io Penso che tu non sei figlio mamma e papà Penso che tu non sei veramente da famiglia nostra Perché se io fosse Qualcosa che papà aveva imparato E che cosa? Mh? Ha fatto tutte quelle che ha deciso come ricissa Pure se non era senso Senso te ne è come Si intuca uno poveri Perchè Perchè Perchè